amici e amiche bentornati ci troviamo di nuovo qui su posti che il manager 2023 con il nostro franz kaiser io sono in una street di registrazione direttamente dalla minano sanremo perché voglio darvi il maggior numero di contenuti possibili perché voglio essere presente per voi e perché soli non poterlo essere in tanti altri ambiti detto questo non perdo tempo non vi faccio rimandere di iscrivervi al canale chi se ne frega andiamo a cannone a parigi urbe tanto so già come andrà a finire siamo i favoriti anche qui non abbiamo la possibilità di usare la forza di volontà anche qui perché non possiamo mettere perché abbiamo abbiamo più uno però qui ci sta che è l'obiettivo iniziamo essere un po in fatica male andiamo dai favoriti signori però non lo so ho notato mi è stato fatto notare ma ho notato anche da solo che manca utman è perché infortunato ma crea ganna perché è infortunato non manca van der pelle van der pelle con binanghi ormai squadretta che alla boran squadrettina ragazzi non so veramente come gestirla non so veramente come gestirla perché a livello di pavè non siamo i migliori siamo a livello dei migliori perché il migliore van der pelle 82 e van bale 80 noi 79 come tanti altri quindi siamo al livello dei migliori io sinceramente avrei anche aspettato registrare questo video chiedendo magari qualche consiglio di come poter gestire queste cose perché magari voi ne sapete più di me anzi togliamo magari però poi magari non ho modo di registrare quindi sto facendo tutto un lavorone tutto di seguito abbiamo più 3 ok qualcuno ci ha ascoltato le lamentele sono state sentite hanno tutti più tre meno philipsen toni sen ok va bene va bene va bene va bene appena otti sbeno e me lo tengo noi saliamo a 83 di pavè noi saliamo a 83 di pavè bene direi partono le prime fughe di queste di queste monumento van der pelle ampi uno van der pelle più uno forse è gestibile ma non credo perché ripeto secondo me la cpu bara tra molte virgolette è una corsa molto lunga però quindi sarà uno uno sforzo nello sfinimento questi muri famosi della parigi ruby sarebbe uno scalpo in porta mica da ridere ma parigi ruby la nostra diciamo la nostra monumento minima sindacale l'abbiamo portata a casa con la minano sanremo ovviamente la minano sanremo è casa nostra franza ha comunicato poco fa di aver preso casa proprio sanremo perché ormai è stato accolto dalla cittadinanza locale come uno di loro un tedesco sui generis non proprio tedesco come te l'immagine molto molto italianizzato ecco che si confonde molto bene con con la popolazione locale abbiamo preso casa sanremo ma facciamo fatica a prendere casa in quel delle fiandre facciamo fatica a prendere casa a ruby facciamo fatica a prendere casa a liegi ma 10 abbiamo preso un appartamentino l'altra volta vediamo se riusciamo a farlo trasformare in qualcosa di diverso e lombardia ragazzi io continuo avere i miei dubbi è fattibile con le statistiche guardate un più tre ci porta avere montagna 79 un più tre così one shot la montagna importante non fa più paura ok è abbastanza evidente è chiaro che siamo schiavi della 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 forma schiavissimi della forma abbiamo la forma a 98 per cento ma siamo schiavi della dei vari bonus che abbiamo ecco non della forma in senso stretto vediamo abbiamo trascorsi primi chilometri le prime decine di chilometri siamo per arrivare al primo muro di pavè in realtà non è un muro ma è un pavè qua non vale collinare non vale medio collina novella la montagna valgono solamente pianura e pavè pianura va 82 non è male saremmo dovuti battere da un 80 avremmo dovuto avere pianura pavè 80 per avere diciamo una grossa potenza di fuoco affrontiamo a breve il primo tratto deve importante a quattro stelle su cinque quindi ho fatto rosso non sono ancora quelli neri come il di car food labo che arriva un po più in là ma iniziamo come vedete ci sono le prime cadute cade oldani van den bosch anche alla fine la fuga di chi si è composta roman grégoire martin loutens bulamur e libera ok interessante la fuori interessa c'è ancora abdel e zogabi si sta muovendo spero si ok abdel ok ok noi stiamo tranquilli per adesso ma che uno 134 30 38 chilometri io azzardare un per 4 non per 8 cerchiamo di capire la squadra se la sta gestendo da sola la cpu la nostra squadra intendo noi siamo comunque sempre capitani di tutto quindi effettivamente il leader assoluto ci è stato confermato è solo in partite le diciamo le contrattazioni per il contratto come sapete verso aprile marzo aprile partono io ho speso i miei soldi mi sembra sulla ineos che è la squadra che ci dà la possibilità di avere non troppi campioni contro ma ottimi gregari di lusso gli altri sono secondo me a livello rischiamo di non arrivare a essere dei leader flammang è caduto per troppo è caduta che philipsen attenzione male per noi allora cerchiamo di rientrare sotto nel tratto di pavè spendiamo più fatica possibile ma in realtà ci portiamo davanti perché adesso inizia a essere impattante ora iniziano a essere tratti di pavè ricorrenti e stretti e quindi ti porta a essere un po in fatica a dover gestire la situazione cinque minuti di vantaggio per i cinque nella fuga non male direi non male non sarà molto attenti poi vedi quarta categoria 4 stelle lo chiamiamo di quarta categoria come si dovrebbe chiamare nella realtà se non erro noi ci ci poniamo come sforzo 90 in maniera tale che se dovessero accelerare noi ci rispondiamo in automatico che è la cosa più importante vedete ci sono degli avvicendamenti continui davanti con c'è un continuo cari cambio di persone di ciclisti che vanno a tirare eccetera andiamo su questo tratto di prove che non ho visto come si chiama non tra il primo al non ho visto purtroppo la porta bucata ma il primo da quinta quinta categoria come vedete spendiamo anche barra rossa quindi molto attenzione altre cadute su ha smesso i panni del pilota in formula 1 ed è andato a correre per la china glory perché in cina un po riciclano la gente siamo 85 km dall'arrivo 3 minuti e 3 dalla fuga davanti io continuo a non voler gestire nessuno tengo solo ti smeno vincitore così per dire vincitore della della del fiandre bravo lui ma votis che aspettato fino all'ultimo campione di casa noi ci siamo ancora la situazione dobbiamo evitare cadute e forature le forature sono ancora di simili è caduto un pelino meno c'è di la bambane che secondo me è partito ce ne siamo completamente dimenticati ma di la bambane che parte a 78 km dall'arrivo secondo me è un po è un po c'è philips che sta facendo il ruolo del tiraggio ci vanno a perché molto davanti ecco bander poi lì posso dire che mi fa un po schifo e noi abbiamo più noi siamo per guardate guardate la differenza guardate attentamente la loro ritrovano ragazzi guardate attentamente le statistiche qua guardate le qui guardate la barra verde quindi la terza noi stiamo dando france kaiser guardate mandato la barra verde dov'è già la differenza sostanziale bander pearl a un più uno noi abbiamo più tre noi partiamo con questo che è un deficit importante secondo me allora mettiamoci dietro a tis meno subito e richiediamo tis non è che ci chiede su eccolo portaci davanti tis meno sperando che non ci caschi in faccia tis meno dovrebbe starci ben davanti fa lui la fatica nell'eventualità di parte che decide tener che è un giovane e molto forte nel pavere vedete qui e io devo chiedere a jasper philipson di spendersi per il team a tutta letteralmente a tutta la sfida deve mettersi lì e fare il lavoro come non vorrebbe fare ma come viene costretto a fare in realtà per rietrare su tutti e rientriamo agilmente a questo punto però riparte descite philips rimane a fare il lavoro gianni per mersh che ha una forma negativa lo spendiamo anche lui vediamo anche gianni ma nei toni sen andarci a prendere eventualmente l'acqua asgremi che scrivo le peders come di gestione ecco una situazione di costi così come la gestisci io metto i miei a tirare per non sprecare fatica io però loro non spende vedete qual è il problema loro non pagano queste situazioni non le pagano più di tanto fidatevi non le pagano più di tanto si mettono dietro recuperano la barra verde e vai vanno barra rossa che mi vanno peders e manco la recuperata è partito subito per arrivare qua davanti un piccolo scatto e a posto noi abbiamo philips n e per mersh che stanno dando tutto quello che possono vedersene ancora qua davanti abbiamo davanti la fuga che davanti a un minuto circa quindi l'abbiamo praticamente racciuffata a 50 chilometri ce la giocheremo con i migliori diamo che fermerci è andato quindi magari se si riposa un attimo può essere pips n anche deve riposarsi un secondo occhio perché qua sono se non è san parte su tutti in fila tutti i filari fanno un po paura infatti sono partiti mi sa non dobbiamo perdere questo treno qualcuno è caduto afforato joan johnson afforato e vande a quelle partito niente se lo siamo persi un'altra volta vande a pelle partito vande per le partite noi conti sbeno proviamo a fare uno sforzo gestito ma di quello così non deve recuperare barra rossa non la recupera siamo a mon empe vel altro importante trattivo e di quinta categoria qua ragazzi solo i soli campioni sono i campioni hanno coraggio di fare certe azioni i campioni hanno nome di ti sve no però perché ci sta facendo un lavoro boh non lo so nemmeno io che la vostra facendo ti sve no ecco appena vedete vedete come vedete come il gioco legge quello che stiamo facendo abbiamo messo mantenere la posizione è partito immediatamente ovviamente sfiod immediatamente partito vai che sulle tutti gli altri noi cosa dobbiamo fare se non attaccare è per forza se no questo se ne va certo magari non adesso perché è il nostro partito guardate sono partiti ma lasciati indietro lasciati indietro siamo davanti con vander per qui e quindi non è che ho troppa paura perché quello più forte qua però stanno andando tutti a tutta stanno facendo delle azioni impossibili da da gestire per quanto mi riguarda è una follia è una follia letterale qui sono ripartiti in attacco e io niente devo ridire a ti sve no di andare a cannone e direttina entrare sotto appena mi fermo ripartono subito appena mi fermo ragazzi ti smeno è andato siamo già da soli siamo già da soli dobbiamo seguire se ne show fortunatamente si sono fermati subito e continua attacco dietro 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 un altro attacco io sinceramente non so cosa fare posso mettermi trovando per no la porta sta facendo lui il lavoro perché asga mai che scende mi shot sono andati a ti sve non si è un po ripreso quindi chiedo a tis di riprovare ad andare molte molto bene fa ancora un po di lavoro ti sve no poi ci saluta ti sve no noi restiamo con franza e abbiamo un minuto e venticinque di ritardo e niente ragazzi bambarle e van pop el van der pelle non so se è partito io ho perso tutto no 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 non è partito però ragazzi boh ragazzi boh io non so veramente come gestire queste cose ti sve no si sta spendendo quando non dovrebbe però sta provando a fare qualcosa di importante mi shot e mezzo morto descite ne sta ripartendo break in sfior del mezzo morto e casper asgen è morto adesso le shoot parte parte anche la porta parte che van barley noi vogliamo fare uno sforzo 90 che uno sforzo importante ma non devastante per rientrare e basta e cercare di rifiattare poi eccolo carrefour del arbre qui di solito i campioni fanno l'attacco e quindi noi chi siamo per non farlo e franz kaiser si alza simbolicamente sui pedali su carrefour del arbre seguito da van der pelle perché van der pelle sente odore di belle cose e quando avendo poi sento d'ora di belle cose bisogna stare molto attenti però noi abbiamo dato uno strappo pesante è lo strappo è stato dato abbiamo strappato per un po veniamo che stanno ripartendo nuovamente io non so più come gestire la porta e alle nostre dipendenze sì noi proviamo a rientrare sotto questa gente quasi ci siamo fermati perché abbiamo un po tutti paura cazzo quanti quanti arriviamo a al velodromo porca puttana partito ma dopo le partite ha detto vaffanculo vado io e allora ci partiamo anche noi dobbiamo rientrare sotto dobbiamo rientrare sotto velocemente perché sennò è finita ragazzi sennò è finita sennò è finita vender per come sta figa sta meglio di noi ragazzi non so cosa fare ok siamo rientrati siamo rientrati dobbiamo recuperare quanto più barra rossa possibile io prenderei il gelino a 5 km dall'arrivo ti svelo non devi non devi partire ti svelo non devi partire ti svelo non devi partire la porta dei patria siamo nel velodromo e siamo con una situazione importante ben tarner parte si chiama ben tarner non mi ricordo noi proviamo a stare davanti proviamo a stati davanti seguiamo casper hasgren dobbiamo seguire per forza e questi qua per forza di cose porca miseria vogliamo possiamo entrare su vanderpeller gentilmente si due chilometri dall'arrivo si due chilometri dall'arrivo si due chilometri dall'arrivo si due chilometri dall'arrivo si portiamo anche noi portiamo anche noi siamo interni vediamo cosa riusciamo a fare arriviamo inizio scusate a perché era leggermente più davanti niente ragazzi non ho mica capito chi cazzo è arrivato prima descite nero quando è partito perché perché si sono i doppiati perché su quelli che arrivano dopo e ci siamo stati siamo stati fregati relativamente perché abbiamo fatto lo scatto con vanderpeller e soprattutto asgen secondo me brachenswold che sono dei velocisti ma che sono del velocista signori io più di così non potevo fare detto sinceramente penso di essere al top della forma al top della 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 personale della del personaggio dovrei andare a fare una cosa che non ritengo corretta cioè mettere tutto 82 per esempio ma non ritengo corretto assolutamente se devo vincere voglio vincere regolare io ho dato dei valori in più a pavè per essere diciamo più correttamente in linea rispetto a quello che abbiamo fatto e ve le ho e ve l'ho specificato sempre alzo bandiera beh bandiera bianca è stato comunque una stagione è stato comunque una carriera importante perché ci siamo portati via quattro monumento si è portati via dei risultati importanti delle vittorie sofferte non le più sperate io continuo ad essere senza aver mai vinto una parigi robè e un fiandre le altre abbiamo vinte con più personaggi ma parigi robè e il fiandre rimangono purtroppo ancora qualcosa che il nostro france e noi non conosciamo e noi eravamo qua grazie dovevamo qua andiamo a vedere le statistiche di chi ci è arrivato davanti a livello di 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 sprint e ragazzi non potevamo non potevamo competere con un 80 in sprint 76 78 quando il 73 è l'unico gestibile asga 73 mica 78 voi serati noi 73 man bar le 71 e gli altri erano più indietro sì a livello di sprint anche proprio a parte max valshid che è arrivato un po più indietro però veramente abbiamo fatto il possibili o giustamente la squadra non è contenta perché noi dobbiamo l'obiettivo è quello di vincerlo siamo un po di siamo un po di van art non riusciti ma riusciti perché manette nella realtà nostra realtà avrebbe dovuto vincere molte più monumento per quanto mi riguarda è stato sfortunato non è stato magari cattivo come lo erano e poi le proprio sportivamente cattivo e lo si vede ha detto di fatto che infortunato nel sonda quando noi ma nella realtà intendo e noi siamo un po come lui riuscire abbiamo le capacità vinciamo poi però ci manca l'acuto nel momento giusto purtroppo ci siamo fermati ci fermiamo probabilmente a quello che aveva fatto l'anno scorso punto tutto su lombardia sì certamente c'è ancora da fare la liegi punto a fare un buon risultato alla liegi ma sinceramente lo dico in cuor mio speravo veramente di fare di avere un risultato diverso al fiandre soprattutto fiandre è stata una grande delusione ma anche la parigi urbè e nei momenti in cui siamo entrati nel velodromo con i migliori c'erano troppi velocisti però non potevamo fare lo strappo noi avremmo dovuto fare uno scatto però ci avrebbero seguiti praticamente tutti e non credo che sarebbe stato fattibile vincere detto questo ragazzi io vi saluto e vi ringrazio per avermi servito fin qui spero di non far passare troppo tempo per la liegi che registrano probabilmente in un altro momento però almeno abbiamo questi video di diciamo di sostegno detto questo noi ci vediamo un caro saluto un caldo abbraccio e al prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ciao ciao